Un giorno prima l'insediamento ufficiale del presidente americano Trump, all'inizio di un nuovo corso dei rapporti tra Musk e Washington, il neoeletto presidente della Bulgaria è vicino a Putin, Rumen Radev, ha prestato giuramento di fronte all'Assemblea Nazionale. Dopo il caso della Moldavia, si tratta del secondo presidente, Filo Putin, salito al potere. Cari amici, permettetemi per prima cosa di ringraziarvi per la fiducia che mi ha permesso di diventare presidente di questo paese con 13 secoli di storia. Radev assumerà l'incarico il 22 gennaio insieme alla vicepresidente Ilyana Iotova, per lui l'appartenenza alla Nato e alla UE è una scelta strategica che non può essere discussa.